Per la prima volta un americano entra nella storia dell'Allianz Udas Basket. Infatti è atterrato sabato scorso all'aeroporto di Bari-Parese il nuovo centro della formazione guidata da Luigi Marinelli. Si tratta di Colin Voss proveniente da Detroit, nello stato del Michigan. Nella sua brillante carriera, anche se solamente 24 anni, ha giocato nel Central Michigan University e poi nel North Texas. Per 4 anni ha fatto parte di una delle campionate universitarie più importanti, la NCAA. Nelle prime parole che ha detto al suo arrivo, ha detto di essere entusiasto dell'accoglienza e di dare tutto per i colori biancazzurri. Il nuovo centro dunque è già a disposizione di coach Marinelli in attesa della prima amichevole contro il Biceglie in programma mercoledì.